Ed eccoci arrivati al collegamento in diretta con la nostra redazione social e con Luca Pompei che adesso vedo perfettamente e che ci racconta appunto la giornata di oggi, l'udienza del processo per il crollo dell'hotel Rigopiano. Buongiorno Luca. Buongiorno a te Marina, un saluto a tutti gli amici dei spettatori. Sì, oggi era in programma l'ennesima udienza in questa interminabile fase preliminare al processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano ed è stato il giorno delle perizie da parte della difesa dei vari imputati. Tantissime le perizie presentate, sostanzialmente riassumibili in tre macro temi. Intanto la questione della relazione effetto causalità per quanto riguarda la valanga. Secondo uno studio dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti ci sarebbero testimonianze, prove scientifiche certe per sostenere che la valanga è stata provocata dalla scossa di terremoto di quella tarda mattinata. Ricorderete tutti quella terribile gennaio del 2017 che cosa accadde in Abruzzo. Altre perizie su altri argomenti come quello relativo ad esempio alle emergenze. Secondo un consulente, la provincia nella gestione dell'emergenza avrebbe fatto tutto quello che era possibile fare che comunque anche se i soccorsi fossero partiti tempestivamente non sarebbe stato possibile salvare altre vite sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Legata a questa consulenza anche quella riguardante il lavoro svolto nella gestione dei soccorsi da parte della Prefettura. Ovviamente con questa mole di materiale per quanto riguarda le perizie, tu dicevi giustamente nel sommario oltre 2000 pagine, ci vorrà tempo per studiarle tutte per bene e per fare delle valutazioni. Ecco perché il GIP ha rimandato tutti all'appuntamento al 25 giugno, data nella quale si dovranno trarre conclusioni rispetto a queste perizie fornite. Speriamo sia davvero una delle ultime udienze per poi giungere agli eventuali rinvii a giudizio all'inizio del processo vero e proprio. Estremamente contrariati i parenti delle vittime questa mattina in tribunale a Pescara. Marina, perché insomma la questione si allunga sempre di più e c'è stato anche un momento di leggera tensione rientrato prontamente. C'è anche da dire, come ci ha riferito l'avvocato Vagna della Vigna, che non escluso che molti imputati possano ricorrere al rito abbreviato. Questo per ottenere evidentemente un corposo sconto della pena in caso di condanna.